Ha ormai 40 anni suonati la Guzzi California, un modello nato per la pulizia di Los Angeles a poche decine di chilometri da qui, dalla spiaggia di Malibu dove ci troviamo. Ma invece l'invecchiare ringiovanisce, è un modello completamente nuovo a partire dal motore da 1.4cc ma con la più classica delle configurazioni Guzzi, un bicilindrico trasversale con la V di 90 gradi. Grazie a tutti. Nel frattempo siamo arrivati a Pasadena, nel centro della città davanti al municipio. Abbiamo anche cambiato moto. Siamo passati dalla California Touring, più accessoriata per il viaggio con parabrezza, valigie laterali, alla Custom, più semplice, più essenziale, pulita. La California non è americana soltanto nel nome ma anche nello stile di guida che impone, per come è fatta la moto stessa, che è molto bassa da terra, per avere più appoggio nelle manovre e in altre situazioni critiche, ma è anche più larga, ha le gomme più larghe, i pneumatici più larghi per avere più aderenza, più impronta a terra, ha la sella molto larga per star più comodi, ha le pedane larghe, si possono tenere i piedi in posizioni diverse, però sono anche avanzate, quindi c'è il manubrio largo che aiuta a manovrare meglio. E qui a Pasadina c'è anche il Piaggio Advanced Design Center, un ufficio di Piaggio che si occupa anche di studiare progetti per la mobilità del futuro, mobilità alternativa, ed è guidato da Miguel Galluzzi, uno dei designer di moto più famosi al mondo, più conosciuti al mondo, che ha progettato moto come la Ducati Monster o l'Aprile RSV4, e ha delle cose da raccontarci sulla mobilità del futuro. Piaggio è un'azienda nata in Liguria, cresciuta in Toscana, cosa ci facciamo adesso a Pasadina, in California? Ma vedi, California è un posto molto particolare nel mondo, soltanto a Los Angeles ci sono quasi 150 etnie differenti che si mescolano, che convivono giornalieramente, creando un ambiente dove le nuove tendenze crescono diariamente dappertutto. Abbiamo, è in senso andare oltre, perché se andiamo da Silicon Valley a Los Angeles, posso dirti che in questo momento ci sono tantissimi progetti di mobilità che stanno andando avanti, anche in forma amatoriale, l'altro giorno vedevamo molto vicino a noi qui questi ragazzi che stavano provando questo veicolo attaccato ai piedi, facendo un filmato per sicuramente andare a fare una ricerca di fondi con Kickstarter per creare qualche cosa che in realtà nessuno aveva mai pensato prima. Per quello questo spirito di poter creare, poter inventare, poter non avere limiti, qua in California è ancora così. Voi cosa state assorbendo? Quali spunti avete già tratto? Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare dalla mobilità di dopodomani? La mobilità del dopodomani deve essere molto più intelligente di quanto oggi. Noi come Piaggio, come Piaggio Advanced Science Center qua in Passadena, stiamo lavorando molto su progetti alternativi a cose che abbiamo già oggi, come per esempio potrebbe essere l'APE. L'APE per noi è un futuro, c'è un futuro. Quella tipologia di veicolo compatto che ci permette fare l'ultimo miglio di trasporto, l'ultimo chilometro, l'ultimo momento di trasporto di piccole cose, ancora l'APE è valido. Come ti raccontavo prima, qua ci sono i camion che arrivano tutte le mattine per fare la ricarica della merce per il giorno dopo di tutti i ristoranti che abbiamo qui e questi camion anche qui in America dove normalmente sono sempre state giganti e si stanno rimpicciolendo, perché questo ti permette non solo risparmiare anche dei costi, ma poter entrare in queste città che sono molto più piccole delle grosse città e più facilmente. In qualche modo potrebbe essere simile anche il futuro della moto? La moto secondo me sta per soffrire anche questo, questo significa che ci sarà un momento dove tutto quello che abbiamo fatto fino adesso cambierà, è sempre successo dopo le guerre per esempio questo, morfologicamente la moto ha cambiato dopo grandi cambiamenti o grandi crisi come in questo caso abbiamo superato questa del 2008, 2009 e così via. La moto arriverà da un altro punto a essere molto più leggera, molto più intelligente perché il cliente e i suoi bisogni nuovi, questo nuovo cliente che abbiamo davanti ha altre esigenze che non sono quelle del passato.